Putin è l'assassino, Putin è l'assassino, Putin è l'assassino UBISA, 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 UBISA Putin, Putin, Putin Dopo questo attacco di oggi su tutta l'Ucraina Non si vede, non si vede, non si vede Io sono qui perché oggi mi sono riuscita da le notizie, come il 24 febriari L'Ucraina è stato quasi il stesso giorno L'altro giorno, sappiamo che più di 83 bombi sono attaccati da russi E io vorrei dire che tutti dovrebbero sapere che la Russia è un stato terrorista Pensa che oggi il governo tedesco ha fatto credere a Putin Che lui può fare tutto Regarding questa situazione di oggi, è solo riuscita per la città di Crimea È solo, basicamente, riuscita Quindi, aspettiamo questo Ma non aspettiamo così grande attacca E così molte bombi Perché c'è molte bombi oggi in Kiev e in altre città Putin, vorrei da l'Ucraina Putin, vorrei da l'Ucraina Slamo Ucraini, героi, slava Slamo Ucraini, героi, slava Slamo Ucraino, cathedora